Ben trovati dalla redazione di News24.city. Francia, primo dibattito in TV per l'Eliseo, tutti contro Macron, tensione e polemiche a 5 settimane dal voto, 3 ore di confronto. USA scontro, Trump e FBI prosegue, l'indagine sul Russiagate, Cami smonta le accuse contro Obama, nessuna intercettazione. Brexit, la Gran Bretagna attiverà la procedura il 29 marzo, l'ambasciatore britannico a Bruce Hill Barrow ha informato l'ufficio del presidente del Consiglio dell'Unione Europea, Tusk. Alster è morto, Martin McGuinness, l'ex vicepremiere ed ex comandante dell'Aira, aveva 66 anni. All'Italia, il via ai tavoli tecnici del Rio, la situazione è critica, è confermato lo sciopero di 24 ore per il 5 aprile. Caso Perego, parliamo nel sabato, chiude dopo le polemiche sulle donne dell'estera. Rai si scusa, i contenuti contraddicono la mission del nostro servizio pubblico e della nostra linea editoriale. Rai si scusa, i contenuti contraddicono la mission del nostro servizio pubblico e della nostra linea editoriale.